Il Centro Culturale Renato Guttuso di Famara, preseduto da Linaurso Gucciardino, ha donato 5.200 euro all'iniziativa Agrigento non si arrende. Il Centro Guttuso, organizzatore tra l'altro dei premi Mimosa d'Oro e Ignazio Buttitta, ha aderito alla richiesta della comunità medica agrigentina di condivisione del progetto Agrigento non si arrende per la raccolta fondi destinati all'acquisto di ventilatori polmonari e di altri presidi medico-chirurgici da donare all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento al fine di fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il Centro Renato Guttuso di Famara si è attivato promuovendo una raccolta tra i propri soci che hanno subito risposto con entusiasmo all'appello alla solidarietà lanciato dalla Presidente Linaurso Gucciardino. È stato eseguito il bonifico sul conto corrente della confraternita misericordia di Favara pari a 5.200 euro che i soci tutti dedicano ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario e da quanti all'interno dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento si spendono per garantire cura e assistenza a quanti sono stati e saranno colpiti dal contagio da coronavirus.